Oggi signori parleremo di TikTok che a parer mio è un'applicazione totalmente inutile e malvagia Io ora sono un tiktoker Sì Da odiare TikTok a lavorarci su... Eeeh... Non riesce a spiegarti sinceramente Tutto è partito quando ero al bar in cui facevo lo stagista ed ero insieme a dei miei amici Così a divertirci, per un coca cola, mangiare una piadina e via fare un girettino Scarica TikTok Fatti un account, diventi popolare L'ho fatto Il giorno dopo dovevamo andare a Gardaland E la sera prima io caricai un video del gioco aperitivo che vincevo, bla 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 eccetera Eravamo in macchina, io, Damiano e Simone E io a pro tiktoker Raga Ma è normale? 2000 visualizzazioni Come primo video Così un video di 6 secondi In cui tiro un pallone, passa sotto a 4 sedie e vinco il gioco aperitivo Così Non più su YouTube Comunque io arriverò almeno ai 200 iscritti su YouTube Quello è il mio diploma Quando vai al lavoro e il datore di lavoro ti chiede Chi diploma ha? 200 iscritti su YouTube? Lei è assunto con la manina trick Per l'altro di Matteo Parla, giustamente iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un commento, un mi piace, un'iscrizione, non fa mai male, un biscotto gratis a te Un saluto da parte mia e ci vediamo al prossimo video 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Un saluto da parte mia e ci vediamo al prossimo video